benvenuti a una nuova puntata della rubrica face to face siamo in compagnia di massimo colorito team leader di affida benvenuto buongiorno grazie massimo è con noi perché si è qualificato primo nella per la categoria junior nel contest 2023 di affida è stato premiato nel meeting 2024 scorso settembre congratulazioni grazie mille e vogliamo scoprire come è arrivato a conseguire questo risultato quindi io partirei intanto dalla tua età ai 26 anni e chiedo a massimo qual è il tipo di studi che ha fatto e come è arrivato al mondo dell'intermediazione del credito perché so che la tua storia un po particolare nel senso che non è che hai fatto studi di tipo economico ma hai un percorso un po diverso un percorso di tipo classico sì diciamo che ho fatto il liceo classico quindi ho conseguito il diploma nel nel 2017 in un liceo di roma insomma liceo aristofane e successivamente ho deciso di di mettermi in gioco nel mondo lavorativo quindi ho avuto questa opportunità mi è stata data questa opportunità da parte di una azienda a roma e con uno stage insomma di sei mesi per poter insomma essere formato per la professione di consulente del credito insomma personal broker come diciamo in affida e mi sono mi sono buttato mi sono cimentato è stata una bella esperienza l'inizio di quella che oggi è a tutti gli effetti la mia la mia professione direi con ottimi risultati sì assolutamente ad oggi sono molto molto buoni poi si possono sempre migliorare ovviamente e da quanto tempo conosce affida come sei arrivato in affida conosco affida da ormai questo è il quinto anno che sono all'interno di affida e l'ho conosciuta grazie al al mio diciamo mentore che era il mio poi tutor nella prima esperienza lavorativa che mi ha convinto a seguirlo in questa avventura quando affida non era non era altro che una realtà una piccola realtà quindi appena stata fondata e ho deciso di seguirlo in questa in questa nuova azienda che prometteva bene perché era fatta insomma da professionisti di alto livello e quindi ho deciso di unirmi di unirmi a loro hai cominciato a roma e qui si è diventato team leader di recente allora io direi proprio partiamo dagli inizi come hai fatto ad arrivare a questo risultato quindi sei partito da solo e poi adesso guidi un team di quante persone diciamo che ad oggi guidi un team di sei persone siamo in totale e abbiamo in programma di inserire altre due ad inizio anno quindi nel 2025 quindi il team in espansione stiamo facendo tanti colloqui e sicuramente stiamo attirando molte molti professionisti di ogni settore quindi otto persone oggi e quando sei partito come ti sei mosso inizialmente ero insomma da solo su su roma e quindi ho fatto come come mi è stato insegnato da 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 mi tutor insomma dai miei manager passati e quotidianamente insomma ho messo a terra quello che era l'attività del del consulente ovvero rapporti relazioni relazionarsi con con più professionisti possibili quindi agenzie immobiliari ma anche studi di avvocati notai insomma professionisti come noi e abbiamo nel nostro team l'idea di dover collaborare con con studi professionali di un certo livello perché abbiamo la convinzione anche poi la la sicurezza che questi rapporti possano portare a clienti di alto livello e quindi a crescere insomma quello che il nostro la nostra caratura professionale e la gara troppo delle pratiche che portiamo che portiamo in affida quindi sicuramente l'obiettivo è quello giornalmente di incontrare più professionisti possibile e poter insomma trarre vantaggio dai loro contatti portandoli poi a noi il nostro team quello che è il nostro lavoro il nostro mestiere quotidiano e questo nel 2023 che risultati ti ha portato nel 2023 ha portato a ottimi risultati a livello di intermediato mutui diciamo che il mio core business soprattutto il mutuo e abbiamo insomma siamo su numeri importanti perché ad oggi abbiamo come obiettivo quello sicuramente degli 8 9 milioni di euro di intermediato mutui che verrà raggiunto e come team diciamo abbiamo la possibilità di superare sicuramente il muro dei 10 milioni e migliorare ancor di più questo questo numero qui poi al di là del dell'intermediato mutui abbiamo come come sai insomma tutti i prodotti legati al credito quindi per le aziende per insomma i privati come i prestiti personali le cessioni del quinto e per questi prodotti ci stiamo muovendo diciamo facendo entrare all'interno del nostro team delle delle persone dei professionisti del settore sì infatti mi dicevi che state anche differenziando all'interno del vostro team esattamente perché amiamo dare al cliente una una consulenza seria professionale come detto prima ci appoggiamo a studi di di grande livello insomma di 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 medio alto livello sul roma e quindi pensiamo che ogni cliente che viene da noi e quindi richiede la nostra consulenza abbia insomma abbiamo noi il dovere nei suoi confronti di fornire un servizio consono a quello che è il livello appunto del cliente quindi vogliamo che per ogni prodotto che per ogni insomma richiesta del cliente ci sia un professionista che gestisca quella richiesta e mi dicevi prima che nel vostro team avete anche un paio di neofiti non molti ma un paio ci sono e che consigli daresti loro per intraprendere a chi vuole insomma intraprendere questo tipo di professione e quali possono essere le difficoltà e come poi superarle sì diciamo che il consiglio che do a chi si affaccia insomma al mondo lavorativo in generale ma comunque nel mondo della libera professione è quello di 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 parte i classici insomma consigli di non fermarsi davanti davanti a uno racconto un po quella che è la mia storia io ho iniziato molto giovane quindi il l'obiezione che mi veniva posta era sempre quella quanti anni hai da quanto tempo fai questo lavoro 19 20 esattamente quindi era anche giusto che i clienti ponessero questa tipologia di domande e io consiglio di di formarsi quindi di scegliere un'azienda come come la nostra che dà la possibilità di fare tanta formazione e aggiornarsi continuamente stare al passo con i tempi come stiamo facendo noi e soprattutto avere un obiettivo per me è fondamentale avere un obiettivo l'idea del nostro team quella di avere un sogno anche perché no e coltivarlo facendo sì che la propria professione possa portarti ci ti possa far arrivare a questo obiettivo questo è chiaro si va tutti i giorni come ho detto prima con l'aggiornamento la formazione e soprattutto la perseveranza quindi conoscere tante persone parlare con tante persone e mettersi mettersi in gioco quindi come ho fatto io andare a cercare partner che hanno voglia di collaborare con consulenti giovani con consulenti moderni che perché la nostra professione è cambiata molto negli ultimi anni e che hanno come ideale quello della della consulenza e non tanto insomma della della vendita del prodotto noi non vendiamo un prodotto ma facciamo consulenza quindi troviamo quella che la miglior soluzione per per il cliente in base alle richieste e alle esigenze dello stesso benissimo massimo grazie per essere stato con noi intanto grazie e spero di rivederti anche ormai l'anno è agli sgoccioli insomma non manca molto quindi spero di rivederti anche nel 2025 per le azioni del 2024 bocca al lupo crepi grazie